È di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera a Stra, in provincia di Venezia. Davanti a Villa Foscarini si sono scontrate due auto. Sul posto sono giunti il Suemi, i pompieri e i carabinieri. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le auto e collaborato per portare soccorso ai quattro feriti che si trovavano a bordo, tre uomini e una donna. Tutti sono stati trasferiti all'ospedale. Una delle due auto ha sfondato la cancellata a protezione della villa. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro e deviato il traffico stradale. Sul posto anche Veneto Strade. La situazione è ritornata nella normalità lungo il tragitto dopo la mezzanotte.